benvenuti al consueto appuntamento con pordenone sport in onda appunto sulle frequenze di udinese tv niente oggi quattro amici al bar ma invece abbiamo messo in panchina al chiar l'ins perché ha avuto diciamo così la nostra benedizione e quindi gli abbiamo portato fortuna e adesso ce lo portiamo in panchina qui con noi ospite graditissimo di questa puntata di pordenone sport stefano d'agostini buongiorno a tutti eccoci qua stefano d'agostini che è arrivato al chiar l'ins aveva un compito sicuramente impegnativo quello di portare la salvezza e la società friulana e ce l'ha fatto ci è voluto tanto l'ho trovato sicuramente una buona struttura una buona squadra quindi insomma è stata una bella impresa diciamo una cosa fatta bene dai diciamo una cosa fatta bene diciamo invece che lui adesso sta facendo il modesto perché lui ha portato in una società dove c'è già un una proprietà importante che ha dato una giusta delineazione per la categoria lui ha portato quella mentalità di cui loro avevano proprio bisogno e sono convinto sono convinto che l'anno prossimo giocheranno un campionato da protagonisti perché l'anno prossimo resterai su quella panchina sì sì fortunatamente sì sono stato riconfermato e speriamo insomma di riuscire a restire una squadra per fare almeno un campionato più tranquillo questo assolutamente sì che poi dicevo la benedizione nostra quando veniva qui a fare l'opinionista a udinese tv e nessuno lo badava o nessuno si ricordava più di lui magari non è così ma ci prendiamo qualche merito dai ma adesso è anche la benedizione di un sacco di squadre perché grazie alla salvezza sua e grazie alla salvezza del tamai grazie all'impresa che sta compiendo il luminiaco tante altre squadre possono aspirare al salto di categoria e sì per il movimento calcistico friulano è sicuramente un momento importante perché squadre come la sanvitese che hanno perso il playoff promozione contro il fiume che appena ne ho promosso in eccellenza potranno godere di questo salto di categoria così come anche il valeriano dalle categorie inferiori quindi comincia ad avere ad avere a vedersi un friuli proiettato verso l'alto e non più invece proiettato nelle categorie minori ecco chi invece sta compiendo il suo percorso da solo è il luminiaco te la saresti aspettata che avesse ragione di una formazione come l'imperia ma innanzitutto luminiaco una squadra forte squadra forte allenata molto bene con dei giocatori di valore quasi tutti i giocatori anziani non parlo di fuori quota hanno fatto la serie d anzi non ti dico non dico tutti ma ci va anche di capro mattieri per cui insomma una squadra forte io domenica ho visto la partita hanno dimostrato di essere forti secondo me hanno buone possibilità poi io tra l'altro tifo san vittese chiaramente avendo un mio stretto parente che gioca lì e quindi è chiaro che faccio doppiamente il tifo per il luminiaco un altro de agostini continua la stirpe questa è stata una discreta nata per tutti di agostini no perché insomma mi è andata bene mattia ha fatto un grande campionato andrea tricesimo ha lasciato il calcio dopo 417 partite col tricesimo credo che il migliore giocatore del pordenone di quest'anno no credo sia stato senza alcuna ombra di dubbio michele quindi insomma è stata una nata positiva per di agostini ecco io non volevo parlare del pordenone ma chiaramente lui ha tirato in ballo il pordenone attraverso michele di agostini allora come giudichi la stagione del pordenone ne hai viste di partite perché ti ho visto tante volte vicino a palomba e vicino a rossitto per cui non solo ho visto partito non solo ho visto partite ma ho visto una valanga di allenamenti quindi ne ho visti tanti ma è stata un'annata strana in cui molte cose non sono girate nel verso giusto non è chiaro che hanno avuto qualche problema e questo è innegabile no non sono riusciti magari a concretizzare in zona gol tutte quelle che erano le loro speranze perché i giocatori le avevano presi anche con un certo curriculum però magari più di qualcuno non voglio fare nomi ma non ha reso secondo le aspettative quindi è stata un'annata secondo me neanche io voglio fare nomi nocciolini gerardi caccetta tanto per farne qualcuno qualcuno insomma non ha reso diciamo mettiamola così è chiaro che secondo me penso e spero che il pordenone abbia insegnato tanto quest'annata perché insomma dopo essere stati scippati e continuo a dirlo scippati dalla serie b perché loro sono stati scippati stiamo parlando dell'anno precedente con tedino nella semifinale con il parma magari le attese erano tante le cose non sono andate bene ma fa esperienza per il prossimo anno che secondo me potrebbe diventare un anno importantissimo ecco dimentica che ha visto tante partite fianco a fianco con rossito e tanti allenamenti del pordenone insieme a lui quando non era ancora il tecnico e poi anche quando è diventato lui il tecnico ma tu l'avresti riconfermato non sei amico suo in questo modo non voglio entrare in queste cose che sono che sono anche antipatiche io giudico rossito un ottimo allenatore cioè una persona a me piace la gente che lavora sul campo a prescindere dalle idee che hanno e lui è uno che tutto gli si può dire treni che non lavori è uno che gli piace questo sport che ci mette anima e core come si suol dire vado dietro la palomba ed è sicuramente una persona per bene quindi al di là della riconferma no rimane un ottimo allenatore e una persona rispettabile Palomba l'ha definito una delle definizioni più belle che abbia visto a parte le mie ovviamente il medico di famiglia del pordenone è vero lui arriva sempre per curare sì è vero è vero lui non ha mai sì ha avuto la sfortuna forse di non riuscire mai a partire con una squadra sua no quindi è chiaro che questo forse quest'anno l'avrebbe meritato eh sì non possiamo dare un giudizio definitivo su di lui proprio per questo perché non ha mai avuto una sua creatura in mano ed è stato bravo a fare diventare quello che era di altri una sua creatura perché alla fine lui da sempre una fisionomia alla squadra certo ed è stato bravo anche dal punto di vista umano perché dopo esser stato tagliato per l'ennesima volta a mio giudizio anche in maniera poco consona alla situazione ha detto il rapporto fra me e Mauro Lovisa resta ottimo e gli auguro di trovare l'allenatore giusto e poi parlando di Zironelli ha detto anche Zironelli è un ottimo allenatore credo che sia l'allenatore giusto per il Pordenone tu di Ziro cosa pensi? beh io lo considero a livello di Serie D poi lega profoto solo quest'anno a livello di Serie D lo considero il più bravo di tutti perché è un allenatore che ha una mentalità totalmente diversa da tutti gli altri ha un modo di vedere calcio totalmente diverso da tutti noi lui se potesse giocarebbe con una punta anche in porta perché gli piace attaccare a questa mentalità trasforma molte volte anche degli attaccanti a fare i centrocampisti giocando lì con i 5 o con i 4 a centrocampo molte volte gli esterni sono ex punte ha trasformato Beccaro da punta l'ha fatto diventare mezzala e corre come un matto cioè ha talmente una mentalità da attaccante e entra sotto pelle ai suoi giocatori per farli entrare nella sua mentalità che ti ripeto secondo me è troppo diverso dagli altri e questo secondo me lo fa diventare il più bravo di tutti perché poi ottene risultati perché questa è la verità che è zero poi ottene risultati io ho ottenuto tantissimo caspita che sponsorizzazione ma Dario Zironelli non ha bisogno di sponsorizzazioni il mister ha detto già tutto lui è uno che predilige un gioco d'attacco ed è un allenatore al quale secondo me piace tanto investire sul campo e meno in sforzi fisici è ovvio che se io fossi allenato da uno come Zironelli mi divertirei di più giocando quindi darei sempre il massimo e dire che non volevamo parlare del Pordenone perché praticamente la stagione è finita finché non ricomincerà con il ritiro di Artaterme a fine luglio però ci siamo ricascati ritorniamo da noi ritorniamo a parlare appunto del Lumignacco che nelle prossime due domeniche avrà due scontri importanti sì si trovano questa Calvina Sport una squadra bresciana giocano la prima domenica in casa a Corno perché loro hanno i problemi col campo e poi c'è un ritorno non possiamo che augurare il meglio non diciamo niente per Scaramanzia poi avere quattro squadre figurare in Serie D secondo me sarebbe una grande cosa per un certo punto abbiamo temuto di non averne nessuna addirittura soprattutto Pordenonesi adesso invece ci ritroviamo con il Chions, con il Tamai, con il Chiarlins e magari anche il Lumignacco sì ed è incredibile dico io che se facciamo la somma di tutti e quattro magari facciamo un quartiere di Gorizia come popolazione perché è la verità non dico quattro borghi tu che parli sempre del Borgo dei Miracoli sono quattro borghi se vogliamo sono quattro borghi perché sono paesini tutto quello che vuoi ma la popolazione è quella quindi è incredibile come il calcio in Friuli molte volte venga fatto da passione da imprenditori importanti ma in posti piccoli è una cosa clamorosa questa del resto in Serie C c'è un Renate che ha meno abitanti di Tamai questo è vero è vero che noi insomma veniamo sostenuti da Pordenone, Trieste e Udine che sono città importanti e c'è da tenere in considerazione la grande rinascita di Gorizia perché Gorizia è una società Gorizia dopo la programmazione che hanno fatto negli ultimi due anni la vittoria del campionato della passata stagione vedrete che nel giro di due anni Serie D, Lega Pro lotterà anche lei sicuramente ne sono più che convinto anche perché come ha detto il mister hanno un tifo importante quindi sono seguitissimi hanno un impianto sportivo importante e vedo che la proprietà si sta attivando anche in questo senso per cui sarebbe bello vedere le quattro province tra i pro ecco a proposito di impianti importanti di pubblico importante Trieste non ce l'ha fatta i playoff la Triestina ci riproverà l'anno prossimo con Pavanel? ma le notizie dicono che sarà Pavanel e naturalmente credo che sia la scelta giusta un loro figlio un profeta quasi in patria anche se lui non è proprio Trieste sì va bene però insomma diciamo che è adottato è diventato più triestino di forse di tanti altri triestini anche perché ci tiene tantissimo poi viene da un miracolo sportivo di quest'anno ho fatto ad Arezzo ha fatto una cosa secondo me straordinaria erano veramente in mezzo a una strada è riuscito a salvarli dopo 15 punti di penalizzazione è stato straordinario quindi credo che arrivi con le cadenziali giuste ad allenare un posto che lui ama ecco quindi è auspicabile che anche Trieste riesca a raggiungere livelli di eccellenza anche in Serie C magari punti alla Serie B che è una categoria che addirittura sta stretta alla Trieste alla portata anche perché negli anni 80 la Triestina di De Falco io me la ricordo ancora da bambino con le figurine panini voglio dire sarebbe bello ero presente quando Giorgi si ha sbagliato quel calcio di rigore che avrebbe potuto portare riportare l'Unione in Serie A e qualcuno quella volta diceva che magari alla società non dispiaceva neanche tanto che l'avesse sbagliato perché come sempre a Trieste c'erano problemi di soldi invece questa volta con i milanese sembra che la situazione sia diversa sì poi hanno fatto questo hanno ottenuto i campionati europei e quindi anche lì insomma ci saranno delle entrate non indifferenti per la società e questo gli permette di ristrutturarsi quindi ho già visto sono andato a vedere la Supercoppa tra Chions e San Luigi Supercoppa di eccellenza e lo stadio stanno cominciando a rimetterla a posto e questo insomma credo che sia già una cosa importante quando si vede che le strutture vengono messe a posto perché chiaramente era un po' faticiente lo stadio o malgrado fosse bello e non tanto vecchio mentre a posto da lì si comincia a vedere già che la società cerca di strutturarsi in un certo modo e questo è importante città insomma è importantissimo Trieste dai ecco problemi di strutture abbiamo detto il mestre che non riesce a giocare al baracca e questo potrebbe appunto favorire la liberazione diciamo così di Zironelli verso Pordenone ma anche Pordenone perché il Bottecchia avrà un altro anno di deroga ma bisogna andarsene da là per andare al Tognon allora io penso che per chi segue il Pordenone giocare al Bottecchia cioè il Bottecchia è un po' il tempio del Pordenone fa male fa male lasciarlo ma come la proprietà ben sa se tu vuoi adambire a categorie superiori però devi cominciare a valutare di andare altrove purtroppo non c'è alternativa e non si sa quando ma nel corso della prossima stagione ci sarà il trasloco lo garantisce anche l'amministrazione comunale di Pordenone quella di Fontana Fredda parlavamo dell'ottimo momento del calcio friulano che è testimoniato anche da quello che stanno facendo le giovanili del Pordenone under 17 e under 16 e anche da quello che ha fatto la rappresentativa regionale beh quello della rappresentativa è stata una cosa grandiosa e mi piace ricordare che fino ad allora l'ultimo aver vinto sono stato io quindi la domanda era tendenziosa quindi questa è una cosa di cui vado orgoglioso e lo dico sempre perché insomma sono cose importanti quando sei campione d'Italia della tua regione è una cosa straordinaria e quello che hanno fatto questi ragazzi quest'anno è una cosa meravigliosa e loro se ne renderanno conto andando avanti col tempo perché sono quelle cose che rimangono sei campione d'Italia non è una cosa cioè quando uno dice che è campione d'Italia cioè è una cosa che riempie la bocca e anche il cuore quindi è stato meraviglioso sono stati bravi poi il mister Bortolussi è stato meraviglioso fantastico campione d'Italia dove punta a essere anche le formazioni giovanili del Pordenone per ripetere i tempi gloriosi di Zanussi e Cirelli ma si se la vanno a giocare con tranquillità secondo me hanno facciamo gli sconti no no io credo che sotto l'aspetto del settore giovanile il Pordenone in questi anni è lavorato non bene benissimo per cui questo è tutto frutto di programmazione vanno dati i meriti a Fiorin il responsabile del settore giovanile che si sta impegnando in maniera notevole e soprattutto ai tecnici che lui ha selezionato e che poi stanno formando questi giocatori è bravo soprattutto anche a Mauro Lovisa che ha sempre creduto in questo progetto per cui io sono convinto che salavano a giocare abbiamo parlato di serie C abbiamo parlato di serie D abbiamo parlato anche di eccellenza io vorrei scendere giù in promozione magari ancora più giù in prima categoria ma mi è stato vietato assolutamente da Palomba quindi lascio a Palomba che scelga l'argomento con cui chiudere questa puntata io direi di fare una panoramica sull'eccellenza dove troveremo ancora il Fontana Fredda un Nì per quanto riguarda il Cordenons ci sarà il Brian che secondo me anche quest'anno è stata una bella rivelazione si riconfermerà avremo delle sorprese come il Fiume al suo primo anno per la prima volta proprio nei 70 anni di storia per cui secondo me potrà essere un campionato avvincente mi auguro ci sia anche la San Vitesse perché è una società gloriosa e non merita di giocare in promozione ma già in eccellenza più gli si addice per quanto riguarda la promozione ci saranno le solite società che punteranno io vedo un passo avanti a tutte il Casarsa quest'anno perché anche loro si sono strutturati bene hanno puntato su un tecnico vincente e giovane come Muzzin per cui io credo che alla fine possa raggiungere l'obiettivo adesso passerei la palla al mister certo visto che di prima categoria non si può parlare allora a questo punto grazie Stefano per essere una cosa la dico noi partecipiamo come sempre come S.A. Porcia noi chi? come S.A. Porcia provando a fare il nostro campionato non potremmo sicuramente fare un campionato da protagonista perché quest'anno secondo me ce n'è una che sarà la più forte di tutte ed è la nuova Sacilese che sta provando a rientrare nei ranghi alti del calcio pordenonese per cui noi ci proveremo e qui parlando di Sacilese si potrebbe aprire un'altra puntata ma non abbiamo più il tempo Stefano facciamo un'altra volta facciamo i complimenti anche alla Sacilese bravi a ricominciare bravi a ricostruire bravi a fare quello che stanno facendo bravi veramente e bravo anche tu a questo punto allora va bene grazie e come al solito l'appuntamento è alla prossima settimana sempre con Pordenone Sport su le frequenze di Udinese TV grazie Stefano è stato grande lui è un grande Massimo Orlandi ha vinto il secondo trofeo giardino della Serenissima riservato ad Elite e Under 23 organizzato dalla società ciclistica Sacilese Euro 90.3 il portacolore della Cycling Team Friuli già vincitore di una cronoscalata in Polonia ha battuto nel frangente il venezuelano Gomez e Lonardi della Zalf a completare la festa del team bianconero ci ha pensato Mattia Bais giunto quinto i partecipanti hanno affrontato 40 volte l'anello per un totale di 104 km con partenza e arrivo in piazza del Popolo a Sacile nella competizione riservata ai diciottenni Davide Bessiga ha conquistato l'argento il beniamino di casa della Sacilese Euro 90.3 è stato beffato nella volata finale da Tommaso della Valle già vincente in questa stagione per altre due volte la prova riuscitissima con 98 iscritti 66 partenti e 50 arrivati al traguardo è stata combattuta fin dalle prime pedalate con continue iniziative rintuzzate però sul nascere dal gruppo a metà gara c'è stata la fuga più significativa con otto temerari tra i quali figuravano Polese e Brescancin della Sacilese Favretto del Pordenone e Faccio della Danieli il plotoncino però è stato ripreso al 27esimo giro nel finale c'è stata la volata conclusiva con il successo di Della Valle da segnalare pure il settimo posto del biancorosso Samuele De Marco Stefano Liani Presidente della Società Ciclistica Sacilese dopo la splendida giornata della serenissima Sacile due gare tantissimo pubblico anche un discreto numero di partecipanti nonché questa manifestazione sia giovanissima infatti ha solo due anni Sì è stato l'ennesimo successo dopo l'edizione dello scorso anno quest'anno abbiamo fatto due gare invece di una sola e la formula ci ha dato soddisfazione perché abbiamo avuto sia come presenza di corridori sia come pubblico una bella soddisfazione nonostante la concomitanza con altre gare nel Triveneto Allora raccontiamo è stata una bellissima manifestazione quella proprio riservata ai dilettanti dove tra l'altro ha vinto un portacolori della Cycling Team Friuli che è una società appunto della regione Sì sicuramente è stata la manifestazione delle due gare è stata quella più bella e più spettacolare sia per l'alta velocità e perché comunque i dilettanti insomma è sempre un bello spettacolo il percorso richiamava lo spettacolo che si è meritato i corridori e le squadre hanno onorato la gara nel migliore dei modi dando veramente spettacolo lungo le strade di Sacile Ha vinto Orlando la sua seconda diciamo vittoria il suo secondo sigillo stagionale il primo l'aveva ottenuto in Polonia quindi significa che diciamo questa manifestazione piace anche ai partecipanti Sì il ragazzo ha fatto veramente una bella azione prima in fuga e poi è partito da solo dando subito il distacco con cui poi ha mantenuto andando anche in crescita agli ultimi giri fino alla fine si è dimostrato veramente un gran passista Ecco un po' di rammarico c'è invece per la manifestazione la gara riservata agli Junior dove Davide Bessega non ce l'ha fatta è giunto secondo mondo Purtroppo vincere in casa è sempre difficile Dalla Valle ha fatto la volata giusta ha fatto sicuramente ha avuto quello spunto che magari a Davide è mancato però la stagione in un punto in cui maggio e giugno sono due mesi un po' difficili i nostri ragazzi puntiamo anche alla scuola soprattutto quindi Davide in questo periodo è molto impegnato con la scuola quindi fa un po' fatica ad allenarsi probabilmente ha risentito un po' di qualche allenamento saltato appunto per via della scuola ecco con questa manifestazione il Giardino della Serenissima come l'avete definito voi avete dei progetti anche futuri importanti sì il percorso è quello con cui veniva fatto il Memorial Zanette ovviamente questa gara noi l'abbiamo denominata Trofeo Giardino della Serenissima per dare un omaggio alla città di Sacile ovviamente il richiamo è comunque a Dennis e a quello che ha il Memorial a suo nome l'idea è quella di riportarlo a Sacile prima o poi magari unendolo appunto a una gara riservata ai professionisti come era una volta e magari facendo una cormesse come quella che faranno lunedì sera a Montebelluna magari a fine giro o comunque vicino alla fine del giro in modo da richiamare di nuovo quell'evento e riportare il nome di Dennis alla giusta posizione a Sacile quindi professionisti a Sacile c'erano già c'erano già stati grazie se non sbaglio a Biagio Conte ad altri amici di Dennis poi ad un certo punto si era interrotta questa manifestazione sì il problema di queste manifestazioni legate ai professionisti sono il budget noi ci siamo posti un obiettivo che è quello di cercare di riportarla a Sacile e di fare una manifestazione importante perché se lo merita la città e se lo merita Dennis e quindi lavoreremo per questo obiettivo cercheremo di trovare un'unione diciamo di intenti sia con l'amministrazione comunale sia soprattutto con quelli che sono i commercianti perché alla fine il nostro intento è quello di che tutti siano contenti è difficile accontentare tutti ma cercheremo di farlo per il bene della città insomma perché comunque alla fine la manifestazione che abbiamo fatto in questi due anni ha avuto successo di pubblico e comunque la gente ne parla Sacile è una città la piazza soprattutto che richiama eventi di questo tipo la cornice è stupenda e quindi sarebbe un peccato non sfruttarla dal punto di vista agonistico la Sacilese ha avuto le sue soddisfazioni quest'anno soprattutto con Jonathan Milan che oltre ad aver vinto tre gare è stato anche così chiamato in azzurro dal commissario tecnico Rino De Candido Sì quest'anno con gli junior ci stiamo prendendo delle belle soddisfazioni era un progetto nato sei anni fa quando questi ragazzi erano esordienti quindi erano tutti nel nostro vivaio la maggior parte alcuni si sono inseriti durante il percorso come Jonathan Jonathan è l'esempio classico come tanti altri che bisogna avere pazienza con questi ragazzi a dargli il loro tempo di crescere che prima o poi se hanno la volontà e la voglia di fare i risultati arrivano nel suo caso i risultati stanno arrivando già lo scorso anno aveva fatto un grande passo in avanti quest'anno ne ha fatto un altro e i risultati e le chiamate nazionali ne sono la giusta riconoscenza ecco non solo Jonathan però perché Davide Bessica già si è piazzato parecchie volte in questa stagione non è riuscito ancora ad ottenere il successo però diciamo che c'è vicino sì diciamo che tutta la squadra sta girando molto bene i ragazzi sono tutti volenterosi e stanno facendo tutti quanti dando il loro massimo impegno come ho detto prima maggio e giugno sono mesi un po' difficili per via della scuola perché comunque ci teniamo anche a questo aspetto quindi avremo davanti tutta più di metà stagione per arrivare ad ottobre e penso che tutti possano togliersi qualche soddisfazione ad oggi la maggior parte di loro se la sono tolta con un piazzamento o comunque con delle prestazioni importanti quindi credo che per il momento possiamo essere soddisfatti i nostri ragazzi sapendo che da qui in avanti possiamo fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto dal punto di vista organizzativo oltre diciamo questa bellissima manifestazione che si è disputata proprio nello scorso weekend ci sono altre manifestazioni importanti soprattutto riservate agli junior sì a calendario abbiamo altre manifestazioni adesso stiamo vedendo perché purtroppo un po' la questione economica e un po' anche l'accavallarsi di altri eventi in calendario magari stanno rendendo un po' difficile le cose sabato la settimana prossima ci sarà un'altra gara riservata agli allievi e poi abbiamo una cronometro che ci hanno proposto da fare a metà settembre adesso vedremo se riusciremo a fare anche questa ma insomma ci stiamo lavorando non solamente juniores voi chiaramente il vostro fiore all'occhiello anche il settore giovanile sì settore giovanile che ci ha permesso appunto di rifare la categoria juniores dallo scorso anno ci puntiamo oltretutto quest'anno abbiamo anche dei direttori sportivi giovani che hanno smesso di correre e si sono gettati in questa avventura facciamo i nomi sì beh nel settore giovanile e nei giovanissimi abbiamo l'Ariana Simeoni che aveva smesso di correre due anni fa l'anno scorso ha associato una mano con i giovanissimi e quest'anno si è presa l'impegno a pieno titolo ha fatto il corso di direttore sportivo quindi ha acquisito il tesserino come direttore sportivo di primo livello negli esordienti abbiamo Daniele Dalbo che ci sta dando una mano lui ha smesso di correre lo scorso anno come juniores e anche lì insomma sta facendo bene perché alla fine sono arrivati dei piazzamenti è arrivato il titolo provinciale su strada lo scorso weekend nel mini giro del Friuli e per gli allievi abbiamo due ragazzi un ex dilettante e un ex juniores Vladimir Ruric e Maurice Polese anche qui due ex corridori due ragazzi giovani che però si stanno dando da fare stanno dimostrando molto impegno e anche qui sempre lo scorso weekend sono arrivato arrivato il titolo a cronometro per Biagio Damo e dei piazzamenti quindi mancano le vittorie ancora ma insomma la stagione è lunga e i ragazzi come ho detto adesso devono pensare alla scuola grazie a tutti Grazie a tutti.